Vi dovreste girare, vi dovreste girare e sfondare là dentro perché dovreste difendere noi, i cittadini, capito? Dovreste girarvi e vado a frontone e farci entrare a noi e mandati fuori tutti gli altri. Ed è la giustizia, nel totale rispetto del programma alcuni di loro avevano fatto del bipolarismo la propria ragione di vita. Quelli che con senso di responsabilità hanno deciso di sostenere il governo scelto dagli elettori. Io non mi stupisco più di nulla. La Costituzione assegna un tempo congruo, 5 anni, nel quale i governi debbono adempiere agli impegni assunti con gli elettori. Potremmo dare ai mercati quelle garanzie di serietà e di rigore che in questi tre anni ci hanno già consentito di difendere con successo i titoli di Stato. Le locuste della speculazione aspettano solo l'occasione giusta per colpire le prossime prede che mostrino segni di debolezza. Lo sanno gli analisti politici ed economici, lo sanno gli risparmiatori, lo sanno gli imprenditori, lo sanno tutti i cittadini. Di l'ho di più, ho sempre auspicato non solo il sostegno ma addirittura l'ingresso nella maggioranza dei settori più moderati dell'opposizione e di tutti coloro che si riconoscono nella grande famiglia della democrazia e della libertà, cioè del partito favorario europeo. E' un'unica sette punti in grado di garantire la governabilità, l'abilità internazionale del Paese e l'alleanza tra il popolo della libertà e la lega con l'apporto delle forze responsabili del Parlamento a cui portiamo stima e riconoscenza. Tuttavia l'opposizione, non voglio rimanere per sempre a Palazzo Chigi o fare il leader a vita del centrodestra. Vi assicuro che è un grande sacrificio, grandissimo. E ringrazio tutti gli italiani che hanno fatto sacrificio e hanno lavorato duramente per superare il momento più difficile. La riforma fiscale non produrrà butti di bilancio, ma darà vita a un sistema più eco e più benevolo all'indomani della catastrofe di Fukushima, impone di mettere a punto una nuova strategia energetica nazionale. Rivendico come un risultato formidabile per il nostro governo il fatto di aver messo a riparo il debito pubblico italiano dagli attacchi speculatari. Sarebbe foro rimettere tutto in discussione, tutte le misure per rendere corattivi gli occhi interventi prioritari che il piano stesso prevede. Seguirà la sottoscrizione dei contratti istituzionali di sviluppo con le regioni e con gli altri enti interessati per definire responsabilità, tempi e modalità di attuazione. Intendiamo anche apportare una incisiva modifica con i sei elettri sotto il simbolo del popolo della libertà. Questo governo ha raggiunto la quota di 64 componenti, compreso il Presidente del Consiglio, rispettivamente per nienti locali virtuosi e per quelli che non lo sono. In particolare voglio ribadire i miei sentimenti di amicizia e di stima nei confronti di Umberto Vossi e di tutti gli amici della Lega. Voi vi dovreste girare, vi dovreste girare e sfondare là dietro perché dovreste difendere noi, i cittadini, capito? Dovreste girarvi e fare frontone e farci entrare a noi e mandarli fuori tutti da tutti quanti.